Nasce da una storia vera ambientata tra gli anni 1920-1940 alle pendici della Maiella in Abruzzo, a Caramanico Terme, però tutto sommato era una storia che mi piaceva perché mi permetteva di riflettere sugli aspetti della libertà dell'uomo, in questa epoca di tecnica dove siamo sempre più funzionali un apparato, in quali ambiti la nostra libertà si può esprimere. Questi sono due personaggi protagonisti, Dora e Giuseppe, che lottano per potersi amare, stare insieme e vivere insieme e Dora viene reclusa per otto anni essendosi innamorata di un mezzadro del nonno, quindi è una storia non originale se vogliamo, però in qualche modo una di quelle che ha contribuito a permettere a noi oggi di amare chi vogliamo e decidere di stare con chi amiamo, una cosa che diamo per scontato magari, ma che scontato così non era all'inizio del secolo, quindi non parliamo di tre secoli fa, ma di 80-90 anni fa, dove i matrimoni erano combinati e quindi anche la libertà individuale era costretta dalle famiglie che facevano dei contratti. Oggi, bene o male, forse, dove la libertà è ancora meno e non ce ne rendiamo conto, la nostra libertà di poter amare è un ambito in cui viviamo la nostra vita nel modo più pieno possibile. Ecco, con queste parole diciamo che hai sintetizzato anche questo titolo particolare, Lascia che sia l'amore. Sì, e non ho spoilerato poi il libro come succede spesso quando si parla di romanzi, in effetti Lascia che sia l'amore che è una scelta dell'editore, perché il titolo originario era Monte Amaro, che è la cima più alta della Maiella, dove si svolge l'azione che è una storia prettamente al femminile e Maiella è un'antica dea riferita alla madre Gea, quindi alla terra femminile che dà alle donne abruzzesi una forza particolare che in questo libro viene fuori, devo dire. Però Lascia che sia l'amore in qualche modo permette di individuare un ambito in modo abbastanza concreto e anche pragmatico da un certo punto di vista, in cui la libertà dell'uomo si può esprimere anche attraverso una lotta che è stata fatta nel passato. Il libro si trova in tutte le librerie, da dove non ci si può ordinare perché è distribuito da messaggerie, quindi è una casa di distribuzione importante, oppure su tutti i siti online che vendono libri e in pochi giorni arriva.